Buongiorno a tutti ragazzi da Zebra Allora raga, prima di io che continui con questo video A chi è nuovo e a chi sta venendo ancora sul mio video di vederli Vi invito a iscrivervi al mio canale Cioè l'iscrizione per me ragazzi è importantissima È importantissima Cioè io ho ora due video, tre video da ieri Nuovo microfono Nuove cuffiette Sto cominciando ad aggiornarmi anch'io Vabbè, sono due mesi che sto su YouTube Però pian piano porterò degli aggiornamenti Soprattutto vorrei portare aggiornamenti durante il mondiale Nuovo, un nuovo format, un nuovo qualcosa Voglio inventarmi qualcosa di nuovo Ma ho bisogno di voi Ho bisogno di voi E di quell'iscrizione Attivate la campanellina E vi vorrò sempre bene ragazzi Allora raga Di cosa voglio parlare? In questo video io voglio parlare della vittoria dell'Inter contro il Bologna Paragonandola con la Juventus Con la nostra Juventus Cioè L'Inter vinto 6 a 1 Però veniva da una sconfitta contro la nostra Juventus Per 2 a 0 Quando la Juventus ha vinto contro il Bologna 3 a 0 in casa Io ho sottoscritto ma non solo Devo essere onesto Ho detto che questa vittoria contro il Bologna Non vale una ceppa Non vale una ceppa Perché quando tu hai dei problemi A livello organizzativo A livello tattico, tecnico Quando incontri una squadra che Sulla carta Rispetto a te È inferiore all'ennesima potenza È normale che se tu giochi quella partita Con una certa intensità rispetto alle altre Con una certa rabbia È normale che la squadra che hai di fronte a te La distruggi La desintegri Praticamente E quando la Juve ha vinto contro il Bologna Io sono stato il primo a dire che questa vittoria Per me non vale una ceppa A parte i tre punti Che ho sempre detto Me li porto a casa e sono contento Ma non ho assolutamente esultato Perché i problemi che io ho visto contro il Bologna A Juventus C'erano e ci sono C'erano e ci sono ragazzi Però va bene così Ora Ho visto certi video di interisti Contentissimi di aver vinto questo 6 a 1 Occhio Precisiamo Non tutti gli interisti su Youtube Devo essere chiaro E sincero La maggior parte No Contenti sì Ma non Perché poi hanno sottolineato i problemi di questa squadra Alcuni invece ragazzi Proprio contentissimi Fieri 6 a 1 contro il Bologna Contro il Bars Bologna Contro il Real Bologna Allora Questi interisti Non partono dal presupposto Che l'Inter Comunque All'inizio gara Stava anche perdendo 1 a 0 In cui il Bologna Aveva cominciato Con un piglio diverso Il Bologna Aveva messo sotto L'Inter Con un gol Recampulesco Come volete Intanto Ha segnato Intanto Era in vantaggio Intanto Se è arrivato All'isù Vicino alla porta Vuol dire Che è stata capace E tu gli hai permesso Di arrivare Vicino In area di rigore Per tirare Questo E l'analisi Poi È uscita fuori L'Inter Ma Non stiamo scoprendo Niente Cioè l'Inter Che è più forte Del Bologna Giustificando Sul 6 a 1 Non c'è nulla Di Anormale Anzi Per me È normale Per me è normale Da tifoso Juventino Lo dico Cioè Per me è normale È anormale Che Alcuni Interisti Come alcuni Juventi Si erano Esaltati A questa Vittoria Esaltati Ma Esaltati Per cosa Ora Come ho detto Alla Juve Lo dico anche Per l'Int Cioè Domenica Quando è sabato Domenico Quando sarà Contro l'Atalanta Lì dovete Dare una prestazione Di un certo livello Non credo Che andrete a vincere 6 a 1 Poi Può succedere di tutto Io sono il primo A farvi i complimenti Ma lì Voglio vedere La vera Inter Quando una squadra Sa mantenere corpo Che poi L'Atalanta Ha perso a Lecce E per Per il Lecce Qui ho abito Eccetera Sono contentissimo Però l'Atalanta Non c'era proprio E Gasperini Ha fatto lo sbruffone Ha fatto lo sbruffone Ha fatto Gasperini Quella è la verità Fanno delle sostituzioni Fatte un po' così Per via dell'Inter Invece di pensare A vincere a Lecce Che è più difficile Perché è più difficile Perché con l'Inter Tra virgolette È più semplice Perché A livello nervoso Sai che L'Inter Più squadra Rispetto a Lecce Quindi Vuol dire che tu Atalanta E tu allenatore Principalmente Hai sottovalutato Questo Lecce Lo hai sottovalutato L'hai preso sotto gamba E l'hai presa nel culetto Questa è la verità Quindi agli interisti Io dico Se voi Andate A Bergamo Ma anche Vincere 1 a 0 A Bergamo Vincere 1 a 0 Sono il primo A farvi i complimenti Come ieri Comunque Io ho fatto i complimenti All'Inter Perché Come ho sempre detto Su questo canale Vige la sportività Quindi io sono il primo A dire Brava Inter Hai vinto 6 a 1 Ti sei portato Tre punti a casa Ma non devi essere E contento di nulla Contento lo devi essere A momenti in cui Metti sotto l'Atalanta E vinci E vinci Allora lì cominci a capire La situazione Ma fino a quando Non ti fa un bel filotto In cui batti Anche le prime della classe Allora lì cominciai a essere Io personalmente Abbiamo battuto L'Inter I vuoi interisti Ma non mi sto esaltando Non mi sto assolutamente esaltando Ottimo Un altro passo avanti Abbiamo fatto Uno scontro diretto Abbiamo vinto Uno scontro diretto Per me Ioventino E un passo avanti Stop Essere squadra E vincere Adesso siamo diventati forti Per dire una cosa del genere Deve passare tempo E risultati Sulla carta Devono risultare I risultati Sulla carta Ecco quando è importante Per me Questo È il mio pensiero Ditemelo come lo pensate voi Ragazzi E vi ripeto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Io vi saluto Ci vediamo alla prossima E Mi raccomando Non ve lo dimenticate Iscrivetevi al canale Un saluto a Zebra Ciao raga Ciao raga Grazie a tutti.